Ho bisogno delle chiavi della macchina, per favore, tira giù le chiavi. No, vai a via. Tre anni fa ho chiesto il Paolo, facciamo un bambino? E lui la sera stessa mi ha regalato un cane. Tantra, tirami giù le chiavi! Foglia le chiavi! Bugie, nient'altro che bugie! Io ne ho abbastanza di te! Lei è ancora innamorata di te, ma sta tranquilla, ce la metterò tutta per portartela via. Se certe cose proprio non finiscono mai di finire, è questo il problema. Bye Bye Baby, venerdì da 20 e 30, su Canale 5.